Ebbene a tutti ragazzi, siamo sempre qui tornati con il nostro fantastico Malaga Nello scorso episodio abbiamo fatto qualcosa di incredibile, di impensabile Siamo riusciti ad approdare in maniera miracolosa le semifinali della Coppa di Spagna Dove abbiamo incontrato il Getafe, cioè dove incontreremo, non abbiamo incontrato Perché in questo episodio giocheremo tutte e due le partite di questa incredibile competizione Che ha visto uscire le big proprio del campionato spagnolo E quindi ci illude almeno, ci dà la possibilità di poter toccare con mano una cosa che sarebbe Cioè un risultato che sarebbe qualcosa di sensazionale Però ancora è presto per dirlo, dobbiamo prima giocare Due partite comunque difficili contro un Getafe che non ci risparmierà veramente nulla La prima è la Rosaleta, io direi che non è successo niente off camera Ho solo preso un osservatore in più per diciamo movimentare più la situazione giovani Ci sarà un po' di turnover da fare perché la squadra è leggermente stanca Vedremo come gestirla Ma noi ci vediamo diretti in campo alla Rosaleta per provare a scrivere un pezzo di storia del club Malaga Getafe, Coppa di Spagna in diretta dalla Rosaleta Stadio sold out per una competizione dove la squadra Malaga vuole provare a dire la sua Vuole provare a scrivere veramente qualcosa di importante E qua attenzione che partiamo subito, sembra bene Occhio Villalba, il rimpallo fortunato, non dovrebbe essere fuori gioco Perciò che subito, dopo quattro minuti, se lo mangia Ancora però qua Villalba, Calabert Situisce, bella qua l'azione Villalba prova ancora Un miracolo stavolta del portiere a negare il gol Partiti fortissimo Eccolo qua Villalba, l'appoggio per Ilias Grande la giocata, Ilias, Ilias, Ilias Prova, è ancora un miracolo È un assedio sta partita, ma non troviamo il gol E questo un po' mi preoccupa Ora dalla bandierina Cercare Kai Chi di testa Troppo su Soria, riparte il Getafe Ovviamente, ovviamente puntuali Dopo un assedio Malaga Al minuto 40 Alla prima occasione, al primo tiro in porta Del Getafe Trovano il gol Come giusto che sia Quando sbagli troppo poi la paghi sempre Qua abbiamo la dimostrazione perfetta Di quello che è appena successo Con il Getafe Che purtroppo passa in vantaggio con Quame Servono cambi Cambi pesanti e cambi importanti Quindi metterei Scott per uno stanco Villalba Metterei Martinez Perché serve Ciò anche molto stanco E direi di spostare Anthony Sulla destra Ilias pure stanco Molto strano Metterei Lago Il capitano deve dare qualcosa in più Attenzione, prova Subito Lago Con l'imbucata E attenzione perché Calcio di rigore Calcio di rigore Entra Lago Subito Asseminare il panico Guadagna un importantissimo Tiro dal dischetto Qua falciato di netto Lago Per l'arbitro non ci sono dubbi Adesso Martinez Si prende la responsabilità Di riacciuffare la parità Che arriva al minuto 48 Freddissimo il nostro numero 9 Neanche il tempo di entrare Che subito La decide Sia lui che Lago I due fenomeni della squadra Sono entrati alla Rosaleda E al momento Ci portano sulla parità Lago Junior Minuto 75 Teoricamente Sul secondo Dovrebbe esserci Da solo Completamente Non ho parole Qua che errore Però di Anthony Che non riesce a buttarla dentro Galabert Galabert Prova a inventare Sbaglia tutto Sì qua Enriques Ci sono spazi Enriques Prova lui Difesa molto alta Qua dobbiamo cercare Delle imbucate Come questa Per Anthony 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 Entra dentro All'ultimo respiro Scott Mamma mia Come l'abbiamo gestita Quest'ultima palla Mamma mia Ragazzi Il 2 a 1 Sul Getafe All'ultimo secondo Neanche perché Il tempo era già scaduto Lì la liscia Il difensore Mamma mia Che culo qua Qua Tanta fortuna Veramente tanta Ma anche grandi giocate Grandi cambi Che hanno veramente Diciamo dato Una scossa alla squadra E si è visto Con questo risultato Di andata Che ci vede al momento Favoriti per il passaggio del turno Ma c'è solo un gol di scarto Quindi non dobbiamo assolutamente Gasarci più Più di tanto Anche perché il Getafe Ha giocato veramente bene Chi va riconosciuto Arriviamo alla partita Con la Real Sociedad Direi squadra Dei titolari Proviamo a rialzarci Anche se l'avversario E' ostico In campionato Che al momento Ci vede Noni Ha 33 punti Voglio solo capire Quanto dista La zona retrocessione Del Levante Che ha 18 Al momento Siamo abbastanza tranquilli Però non dobbiamo assolutamente Abbassare la guardia In campionato Perché il pericolo E' dietro l'angolo Quale fallo E' arbitro Se non è il greco Si propone lui In avanti Fuori gioco Eh lo sapevo Che era fuori gioco Mannaggia Di proprio Quella frazione Secondo dopo Gli era data Peccato Minuto 43 Potevamo passare in vantaggio Se non è qua Martínez Si gira benissimo Bella la palla Perciò Che tre minuti dopo Tutto regolare Segna la sua ex squadra Vediamo se esulta Gli esulta pure in faccia In maniera Molto Provocatoria Lo scadere di questo primo tempo Ci porta in vantaggio Con una grandissima girata E imbucata Anche di Martínez Il solito Veramente Giocatore straordinario Eccolo là Eh ma te pareva Te pareva Proprio Rakitic Proprio Rakitic Ah porca miseria 1-1 Della Real Sociedad Minchia morro qua Non irresistibile Però Era nell'aria Questo gol Era già un po' Che stavano attaccando In maniera Abbastanza esistente L'hanno trovato Purtroppo Finisce qui Un 1-1 Con la Real Sociedad Una partita Pressoché equilibrata Noi abbiamo dominato Il primo tempo Loro il secondo Un tempo a testa Un 1-1 Che sta forse Un po' stretto A noi Per quello che abbiamo creato E soprattutto nel primo tempo Come dicevo Però Ci dobbiamo accontentare Perché il secondo L'abbiamo giocato parecchio male Siamo scesi Molto di ritmo Ma va bene così Nel senso L'importante era Fare punti Perché servono Tutto fa brodo E adesso però Ci vediamo Direi Subito Contro il Barcellona Che sarà un'altra Di quelle partite Veramente toste Ed eccoci qua La Rosaleda Può cominciare Malaga-Barcellona Ho fatto un turnover Abbastanza pesante Non perché sono pazzo Ma perché Due giorni dopo Abbiamo la partita Di ritorno Con il Getafe in Coppa E quindi Voglio dare assolutamente Priorità A quella competizione E Niente Speriamo di non Prenderne troppi Di certo Non penso Di riuscire A tirare fuori Dei punti In questa partita Vista la squadra Che abbiamo di fronte Però noi ci proveremo Fino alla fine Però qui subito qua Pedri Pedri Inbucata per Turam Tutto buono Dopo 5 minuti Il Barcellona Passa già in vantaggio Vabbè ragazzi Questo sarà Un Una cosa Cosa posso dire Che Per la squadra Che hanno Non possiamo fare Molto Oggettivamente Cioè Guardate come giocano Sono di nuovo in avanti Rafinha Occhio qua ancora Il Barcellona Chiuso benissimo Però qua ancora Pera è discatenato 2 a 0 In 10 minuti E Ragazzi Boh Cioè Guardate come giocano Vabbè 2 a 0 Oh vabbè Dai vabbè Ma Cioè Sono dopati Non è possibile Qua miracolo di Morro Che giustamente si lamenta Diciamo che non ne possiamo molto 14 minuti Calcio d'angolo Che viene Momentaneamente Disnescato Ma Sono subito là Loro A recuperare questo pallone Ancchio De Jong Prova A cercare un buco dentro La palla Gli ritorna sempre Occhio qua all'imbucata Ancora per Pedri Miracolo di Morro Miracolo incredibile 3 a 0 Barcellona Io direi che Possiamo finirla qua Perché in mezz'ora 3 gol L'infortunio di ciò Ho capito che tipo Di partita è questa 4 a 0 secco Segna anche Ferran Torres L'ultimo E vabbè Quando becchiamo La partita storta Contro Una big Diciamo che Che si sente Un risultato che Non ci voleva In vista della partita Di coppa Che dobbiamo andare a giocare Anche ciò Che si spacca Non è La notizia Migliore Adesso andremo a vedere Per quanto tempo L'abbiamo perso Ho già l'ansia 5 giorni Quindi salta La semifinale Di ritorno Questa è una bruttissima Notizia Perché ciò era importante Ma Comunque l'infortunio Di l'identità Proveremo a sopperire La sua mancanza Facendo giocare Zuniga Sperando Tiri fuori Una delle sue Prestazioni Che sapete Che ogni tanto Ha la prestazione Magica Speriamo Che sia questo Il giorno Dove possa sfoggiare Tutte le sue Grandi doti Balistiche E ci vediamo in campo Bella Con la palla Di Villalba Per Kevin Che può andare Kevin Kevin Velocissimo Si guarda dentro Si ferma bene Kevin Per Zuniga L'abbiamo chiamato L'abbiamo bramato E la sblocca Proprio lui Al minuto 12 Gelando Lo stadio del Getafe Con questa progressione Una palla Veramente magica Di Villalba Per Kevin Sulla destra Che sfonda benissimo La mette dentro E lì C'è proprio Chi non ti aspetti Zuniga L'uomo che ormai diventa Quello dei gol pesanti Minuto 13 Vantaggio Malaga C'è qua Martinez Martinez Subito 2-0 Da una palla Persa in maniera Stupida Qua del Getafe Raddoppiamo Attenzione Che adesso La qualificazione Alla finale Sembra veramente Ad un passo Come stiamo giocando Ragazzi Villalba 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 Tiene botta Villalba E sono 3 in mezz'ora Ragazzi Ma come gioca Stomala Ragazzi Siamo scesi con una Cattiveria agonistica Incredibile Io pensavo Che il 4-0 Col Barcellona Avesse Diciamo Abbassato il morale Invece qua Stiamo giocando Forse La partita migliore Dell'anno Mi viene da dire Direi di passare Alla simulazione Così mi tranquillizzo Anche un attimo E vediamo un po' La squadra Come gioca Anche senza di noi Devo dire che Il Getafe Ha tutti i giocatori Molto Stanchi E adesso Che lo guardo qua Tutta la difesa È messa Veramente male Noi invece Bene o male Dovrò cambiare Solo Zuniga Vediamo un po' Come sistemare la squadra Però Sul 3-0 Mi sento Abbastanza tranquillo Non mai sicuro Qua morro miracolo Infatti Stiamo attenti Mi raccomando Trova il gol Con Pavlidis Il Getafe Risultato adesso Di 3-1 Al minuto 72 Sorpresa qua La difesa Un gol che al momento Non stona Con una prestazione Sontuosa Dei ragazzi Che giustamente Nel secondo tempo Stanno calando un po' Vista anche la stanchezza Di partite Molto ravvicinate Ma anche di Diciamo Come dicevo prima Un primo tempo Molto molto pesante Occhio però qua Perché se ne prendiamo un altro Devo cominciare a preoccuparmi Invece no Ripartiamo bene Con Villalba Martinez 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 Addirittura troviamo Il quarto ragazzi Con il nostro Miglior numero 9 Di sempre E' finita ragazzuoli Approdiamo In finale Di Coppa Di Spagna Un risultato Straordinario Su una partita Che torna Veramente Incredibile Vediamo Adesso L'altra Si deve ancora giocare Sarà Betis Valencia Ha vinto il Valencia Quindi la finale Potrebbe essere proprio Malaga Valencia Finale molto esotica Mi viene da dire Valencia che tra l'altro Affronteremo adesso in campionato Se non sbaglio Non dovrei sbagliarmi Infatti Eccolo qua Si presenta subito di noi La possibile finale Di Coppa Vediamo un po' Accordo qua Per Guterres A Ibiza Vediamo di mandarlo Se ci vuole andare Oggettivamente Perché Noi le accettiamo tutte Ma lui Non sembra voler andare Da nessuna parte E io direi Che ci possiamo vedere Diretti in campo Nella partita Che potrebbe Essere la finale Adesso vediamo Se il Betis La ribalta oppure no Ma Noi concentrati Adesso sul 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 campionato Malaga In finale Con stile Scrivono i giornali Fa molto ridere Come titolo Il Bologna Addirittura Ci viene a chiedere Di allenarti Purtroppo Declino l'offerta Anche se Un'offerta importante Comunque Che fa molto piacere Oh mamma ragazzi Ho letto una notizia Terribile Che Lago Junior Sta spensando Al ritiro Beh con la vittoria Comunque di un trofeo Potrebbe pensare Veramente di Aver raggiunto Il massimo Da questa squadra L'età Cominci a diventare Anche importante Le prestazioni Magari Calano E il giocatore Che è una persona Veramente straordinaria Che avrà già un posto In società Come ho detto E ribadito Può Pensare Purtroppo Purtroppo Dependere Gli scarpini Al chiodo Per rendersi conto Che ormai Il calcio giocato Non fa più per lui Ma Ripeto Lago è stato uno Dei giocatori Che mi è veramente Mi è veramente Entrato nel cuore Adesso però Concentriamoci Sulla partita Partita che Come dicevo prima Può essere un Diciamo Un anticipo Di una possibile finale Adesso poi vado A vedere se è così E occhio Perché il Valencia La squadra Ce l'ha E noi non dobbiamo Sottovalutare nessuno Anche perché noi Oggettivamente Non siamo nessuno Al momento Dobbiamo stare attenti Però qua stiamo Ripartendo bene Anche abbastanza Fortunati Con Martinez Che prova La palla incredibile Per Villalba Che però non ci arriva Attenzione qua Villalba 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 C'è il buco Villalba Vabbè Marta Svili Insuperabile La partita Veramente equilibrata Anche un po' piatta A tratti 1.60 Prova ad accendersi Ma c'è il portiere Qua anche il difensore Del Valencia A salvare il risultato Sono qua Kevin Bella l'imbucata C'ho Miracolo Niente Oh c'hanno un portiere Troppo forte Non riusciamo a segnare Ragazzi Calcio d'angolo Ancora Villalba Minuto 80 C'è Kaiki di testa Ancora Sempre il difensore A salvarla Sulla linea Galabert Poggio Per Kaiki Dovrebbe essere In mezzo A saltare Non qui a crossare Infatti Decide di tornare da Galabert Si va da Villalba 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 Prova con la magia Ancora Mamardashvili però Un minuto di recupero Ultima occasione per noi Di andare a cercare la vittoria Col Greco Che si propone in avanti Alexandropoulos Prova a difenderla col fisico Ci riesce Alexandropoulos L'appoggio qua Attenzione Non ci posso credere Non è possibile Non è possibile Sbagliare dei gol del genere Non è veramente possibile Ciò Mamma mia che fastidio Potevamo vincerla Dovevamo vincerla Per quello che si è visto in campo Soprattutto nel secondo tempo Ma niente Il calcio è questo ragazzi Che dire Ditemi sotto nei commenti Se riusciremo A vincere questa coppa Di Spagna Che sarà veramente Un qualcosa di Incredibile Già essere arrivato in finale Straordinario Alzarla sarebbe una conclusione Soprattutto per La carriera di Lago Fantastica Se il video vi fosse piaciuto Lasciate un mi piace E un commento La vostra è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video